Cos'è? Qua è focaccia. Focaccia varese. Focaccia varese questa qua. Un po' salato eh? Com'è? Un po' salato. Sì. È la caratteristica di quella di Bari che è un po' più salata, sì. Sì? Sì. Questa è la domanda? Allora, se la stracciatella l'hai mai mangiata? Sì, io ho mangiato. Tu lo sai dove ho provato per la prima volta? A Amsterdam. C'è il mio amico Max che mi ha fatto provare una cosa diversa. Questa è molto 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 più buona perché è l'originale, non quella di Milano. E questa è la stracciatella anche. Max! Ora tu mo' dici a Max, com'è invece questa qua di Bari? E vedi com'è, glielo dici proprio com'è. Max, questo non è male eh? L'ha fatto oggi? Fresca fresca? Allora! Allora... Luca!!